Una notte d'estate di divertimento come tante sul lungomare di Pescara si è trasformata in momenti di panico, tragedia sfiorata in un noto stabilimento balneare della riviera con fuggi fuggi e l'intervento immediato della squadra volante della polizia nel bel mezzo di una serata. Un uomo pluripregiudicato per vari reati tra cui droga ha sparato dei colpi di pistola d'altezza uomo all'ingresso del Lido, ha puntato l'arma verso un buttafuori e si indaga sui motivi. Solo per un caso il colpo è stato mancato, il proiettile però ha colpito di striscio alcuni ragazzi che erano all'interno dello stabilimento nei pressi del bar lungo la direzione presa dal proiettile. Ferite fortunatamente lievi ma uno dei due giovani è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Spirito. Sul posto si sono precipitati i poliziotti della questura di Pescara, due equipaggi della squadra volanti e poi la squadra mobile. Gli agenti hanno bloccato l'uomo con la pistola e ascoltato le persone presenti effettuando i rilievi del caso. L'aggressore è stato quindi arrestato. Stamattina non si parlava d'altro sul lungomare con le voci che si rincorrevano sull'accaduto. Poca voglia però di rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. I residenti sono stufi, lamentano un allarme in sicurezza sempre più profondo a Pescara. Dall'omicidio di Christopher Thomas è stata un escalation, accoltellamenti e ora anche sparatorie. Per i turisti occorrono più controlli. Sia un caso sporadico dettato da qualche regolamento di ponti riconducibile al paese, al personaggio, non lo so, non ho idea. Però a quel che vedo, anche passeggiando la sera, non mi sembra ci siano situazioni limite. C'è la preoccupazione sicuramente dei residenti. Cosa si potrebbe fare secondo voi magari per innalzare il livello di sicurezza, di prevenzione? Mettere magari qualche controllo in più, polizia in giro. Controlli non ne abbiamo visti sinceramente. Quindi magari aumentare quello sicuramente sì. Che manca è un controllo appunto dalle forze dell'ordine in giro anche la sera, nei luoghi più frequentati, più popolati, dove magari può nascere l'episodio violento, piuttosto anche un banalissimo furto.